Desiderate fare delle patate super croccanti, gustosissime, dal cuore tenero? Sentite qui che musica! Vi avviso, creano dipendenza! Per prima cosa laviamo le patate sotto l'acqua corrente e tiepida, poi mettiamole a bagno per almeno 10 minuti con un cucchiaio di bicarbonato. Chiudiamo le patate in carta forno in omelita e cuociamole al microonde in massima potenza per 5 minuti. In alternativa potete cuocere al vapore oppure in pentola, ovviamente senza carta forno, fino a quando sono tenere. Ed ora ecco svelato il trucchetto shui shui per averle super croccanti. Dobbiamo farle raffreddare benissimo, io le metto in freezer per circa 40 minuti. Una volta ben fredde tagliamole a pezzettoni ed uniamo il condimento composto da rosmarino ritato, sale e scorza di limone grattugiata che dona un sapore fresco e super delizioso. Infine uniamo l'olio evo senza esagerare, una bella mescolata ed ecco le pronte per entrare in forno. Possiamo cuocerle in forno ventilato oppure come faccio io in friggitrice ad aria. Io le faccio cuocere a massima potenza per circa 17-18 minuti e poi aziono il grill per altri 2 minuti. A metà cottura mi raccomando di smuovere bene il cestello ed ecco le pronte, sentite qui che musica! Dorate e croccanti dal cuore tenerissimo ed ora condividete il video per far conoscere a tutti queste patate al forno croccanti a cui è impossibile resistere. Grazie! Grazie! Grazie!